Con questi bambini che si allenano con noi, che non sono stati convocati oggi ed erano a fare il tifo per i nostri e questa è la cosa veramente che ti dà soddisfazione Per quanto riguarda i bambini, i bambini, i bambini, i bambini Marchio Vigar 2, che significa? Significa sicurezza sulle strade dei nostri clienti I servizi? I servizi facciamo gommista, facciamo meccatronica, climatizzazione, assistenza Diciamo un bel pezzo di fetta per i nostri clienti Insomma, cerchiamo di impegnarsi per portare avanti con serietà tutto il nostro lavoro Soddisfazione, finalmente si è raggiunta questa fase regionale Tantissima, soddisfazione in una maniera immensa proprio Soprattutto per i ragazzi, per Marcello, perché comunque stiamo lavorando veramente bene Che devo dire? Io sono contento più di lui Perché se ci pensi c'erano dei ragazzi che sono messi nel gruppo per farne 18 C'erano del 2010, c'erano alcuni che hanno iniziato a giocare al pallone Ora, quest'anno, per la prima volta E hanno dibuttato in un contorno del genere Quindi ti puoi immaginare E poi, la soddisfazione, scusate, il derby con l'Arezzo è tutta un'altra cosa Ma poi avete, come dire, vi siete confrontati insomma con realtà importanti Non solo l'Arezzo ma anche la San Giovannese che alle spalle è una grande tradizione Sicuramente due bellissime squadre Però, come diceva Marcello, starci nel campo con 2010 e due o tre bambini che hanno iniziato quest'anno Per prima volta a giocare a calcio per riuscire a fare il numero per anni 18 È stata veramente tanta roba Quindi una soddisfazione unica È merda anche vostro, insomma siete da diversi mesi che ci lavorate E ci lavorate bene Che questi bambini vengono, si rivertono e ci credono E quello vuol dire tanto Quando ci credono riescono in tutto a quest'età, secondo me Adesso bisogna chiudere in bellezza C'è la fase regionale ma c'è anche la Rezion Cup Volevo dire prima una cosa Noi fuori avevamo 5 o 6 bambini che si allenano con noi Che non sono stati convocati oggi Ed erano a fare il tifo per i nostri E questa è la cosa veramente che ti dà soddisfazione Per quanto riguarda quello che hai detto te La fase regionale, la Rezion Cup Noi lo sai te e lo sanno tutti Ce la giochiamo su tutti i pronti Quindi non c'è rimasto solo quello Mi sembra ci sarà anche sesto come torneo C'è un po' sesto, abbiamo i torneo Poi l'appetito viene mangiato No, è che i tornei sono tanti I ragazzi senza altro si divertiranno Perché non penso che in altri in realtà Abbiano tanta possibilità di giocare C'è che si fa il suo campionatino provinciale Finita lì, invece qui è tutto un susseguirsi C'è la pausa di Pasqua Si riposano e poi si ripartono Grazie e buon lavoro Grazie a te Grazie Discorso, 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 discorso Bravissimo, abbiamo sofferto Bravi, bravi, bravi È così che non si molla Dai, ora riposso e facciamo quell'altra Bravi, bravi